Chiedono la verità ai familiari di Francesco Cioffi, 63enne originario di Castellammare di Stabia, trovato senza vita sabato sera ad alcune persone nell'area parcheggio riservata ai dipendenti dell'Atlantic Palace, l'hotel di Sorrento dove lavorava. Se ci sono altri testimoni si facciano avanti l'appello disperato dei figli, la famiglia sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri, la procura di torre annunziata ha sequestrato la salma in attesa dell'autopsia. Per il momento per gli inquirenti il decesso sarebbe riconducibile a un malore, forse un infarto, le escoriazioni, frutto di una successiva caduta. Cioffi avrebbe dovuto partecipare con la moglie ad una festa quella sera, aveva avvertito la donna che avrebbe fatto tardi al lavoro, all'arrivo dei soccorsi era però già deceduto da ore, ad allarmare i figli, le sue condizioni completamente ricoperto dalle formiche, con gli occhiali rotti, il pantalone sbottonato e ferite alla nuca, alla testa, all'occhio e alle ginocchia. Il sospetto è che possa essere rimasto vittima di un'aggressione, ucciso da qualcuno o dai turni massacranti costretto a sostenere al lavoro, sostengono i familiari. Gli ultimi a vedere il 63enne sono stati gli ospiti dell'albergo sentiti dai carabinieri della stazione di Sorrento che indagano sul caso per ricostruire la dinamica.